Benvenuti allo stand Acer IFA 2014, siamo qui per presentarvi un'importante novità in termini design Aspire R13, può sembrare un bellissimo notebook molto sottile con cover in vetro Gorilla Glass, in realtà appena apriamo ci rendiamo conto che la stessa cover Gorilla Glass è usata anche per l'interno, schermo touch, chiaramente disponibile anche la penna capacitiva con anche la possibilità di riconoscere la pressione, quindi molto utile per chiunque debba utilizzare le applicazioni per disegnare, ma la cosa sorprendente di questo nuovo convertibile è la sua capacità di trasformarsi, appiattirsi completamente per diventare un tavolo di condivisione, c'è la possibilità chiaramente di ribaltare lo schermo, quindi rendere l'immagine fruibile a uno spettatore che è dall'altra parte, vedete? e poi chiaramente sempre in questa modalità sarà possibile utilizzare il nostro bellissimo convertibile in modalità tenda, tenda proprio per la forma che prende il notebook quando è appoggiato sul tavolo così e quindi di nuovo una possibilità di presentazione e condivisione molto molto interessante. Parliamo un po' di tecnologia, abbiamo già detto dell'uso di Gorilla Glass per le due cover, quindi nessun tipo di possibilità di riga sulla superficie esterna, molto molto comodo per chiunque viaggi molto e ha bisogno di un notebook resistente e molto bello, ma anche processori core, lunga durata della batteria, più di 8 ore sicuramente, ma molto interessante il fatto che è possibile alloggiare SSD in RAI 0 fino a 1 Tera, quindi due dischi da 512, prestazioni eccezionali, consumi chiaramente sotto controllo e una velocità di accesso ai dati e una sicurezza nella conservazione delle informazioni di livello superiore. La Spyder R13 lo vedremo a inizio novembre sul mercato italiano, il prezzo è ancora indicativo, sarà intorno ai 900 Euro.